Che mi venga segnalato qualcosa, tanto sto parlando Mo si siederà il macello perchè tra i bulberic E fa musica, già c'è sta musica qua Bellissima sta musica Eh, se mettessimo sta musica qua, country Su... c'è una radio country Con questa musica qua, se cosa? Uuuuh E' tutto sparato Eh, mi faccio i gatti, via Parla con il contrabandiere NED BANDA Ma che cazzo... bello! Come mai questo prende poco blu? Che cazzo di a me è quella col poco blu? Ma... vacation! Senti, senti, senti Anche qua le porte sfondate Ah, il tesla, il fucile tesla C'ha questa cosa qua Quindi, vabbè, ce l'ho anch'io il fucile tesla Ma non pensavo... Sganciasse le... Sì, ma se siamo solo in due a farlo, sai che cazzo vuol dire? Ecco, questo c'è sta parlando Adoro una bella Valtori a base di liquore La fice delle robote La fice delle robote l'ho già sentito La fice delle robote l'ho già sentito Ma il co-de-la è bello che... Hanno fatto l'aggiornamento il 14 Praticamente è finito, eh Il 14 hanno fatto l'aggiornamento il 15 Oggi il 15 Oggi il 15 Il 15 Il 15 Il 16 Il 15 Il 16 E' nessuno già sta facendo più gli eventi Che poi non è, non è normale Perché gli eventi comunque li danno i lingotti Da quelli, da quell'altro Se non capito perché non fai gli eventi Se fosse stato fatto a giocareci e a... A fallout Non giocheresti neanche alle altre Ma il culper no, il culper no Si merda Oh ma è noto Trovia un colpo Ma ma tutto il tuo cazzo Io più la miglia vegetale non riesco a... Ah ci siamo altri Cioè 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 One two three four No Non è Non è Ma che cazzo La piafocca tutta Cioè 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 Il veleno Mi dice Cioè Il veleno di culper acido è nella pasta Eh ma Come dice Ma Boh Non ho capito Dove... Dove si girano sti... Il veleno Eccolo qua Un veleno di culper acido Ok no? Pallè 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 Oddio Pallè Pallè Altro veleno di culper acido No? Però vado a mettere le vie Oh che ciotto ma questo paura Ah beh Se noi gli sparo non... Se noi gli sparo non me lo scegno Oh la spavere Senti 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 Uh Si tratta la ladra E' fatto Ma non gli fa scontare Vediamo ormai che c'è Un po' un po' un po' un po' Un po' di giro Ma meno male che c'ho il tolvo Eeeh Sto cazzo Sto cazzo E' quello? No No Velen 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 Ma quali i distillatori? Uno Due E tre Questo qua sopra Cazzo i distillatori sono sottotacco E' un cazzo E' un cazzo E' un cazzo Hai capito? Ah già la seconda ondata c'è Ma lei ce ne erano tantissimi che ne vinci C'è Bene hai trovato la masca? Non si può dire lo stesso dei numerosi estimatori di liquore che sono passati di qui una e E un po' di Un po' di Un po' di Da Un po' di Un'altra Un po' di E' casa Ma volendo di pulperarci l'altro fatto più a un colpo aspetta a una ghiandola di trozzo dell'altro dell'altro ma io non voglio scendere e questo si è morto senza far migliorare il veleno ma purtroppo quando è gli sparassuti come l'altra cittadino non è il veleno beh il veleno che hai raccolto sta riempiando la vasca per venino siamo a metà dell'opera e dai che palle ci mette mezz'ora per prendere un cazzo di coso ma qui si sciottano subito sii c'è pure il coso c'è pure il destro mi hanno ucciso? sono famose e inutili accetto che per la produzione di liquore ovviamente ma non vede nulla ma non vede nulla perché se non sveglia se metti il veleno di pulperazione era vasto fai 30 su 30 20 da degli oggetti speciali in più e che cazzo è? ma che si è un malton? fai 30 su me ahia oh ma sto morendo guarda questi ma non ti so ma fai così va bene c'è qualcuno che te li scioglie poi non li vedi più dopo che senacchio abbiamo abbastanza veleno per produrre un lotto di liquore e nella vasca c'è ancora parecchio spazio ahia oh no ma non è il mio mezzo mi sono beccato tutto ma sti cazzo che ne sono vado devo saltare perché se no mamma 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 ma mi piace acqua interiore a veleno sasso interiore a rinottarci i tuoi o che cazzo piano calma affanculo lo voglia capendo l'ho trovato e vabbè o meno fan cazzo fammi fare una cosa fammi un attimo che fa me a massimo che un'ottimo spigazzo di veleni o mitragliatrice la legge in bar è il tuo numero è a 60 adesso ma non c'è questa cosa ma cazzo fai ma che si estima, no che cazzo ma che sei matto ma non sei gigante giganto mancazzo 50 di 60 riparati per l'ondata 4 ma sei matto o a settimo pezzi un bel livello 2 a livello ma scusa si raccolgo tutto e va tanto tanto dopo un butto giù e ma il tempo manco il tempo è arrivato che lo scioltano a questo non si capisce niente che poveremo qua mamma aiuto abbastanza non possiamo mettere un cazzo non possiamo buttare giù niente che ma sto pieno interiore interiore di due per 80 80 interiore la città giù da qualcosa sito asma ma io non devo ammai farlo mai vai a vedere il velemo ma come puoi scorrere il concorrente? ma come puoi scorrere il concorrente? ma come puoi scorrere? ma come puoi scorrere? si matta si controlla vatelo qua vatelo qua vatelo qua ecco tipo per fare gli eventi vorrei mettermi la classe ma va anch'io ma non faccio male non faccio male si immagino che un puttistica c'estosiva mi è venuta una becca di agenza dire che sono anch'io e i piatti di loro che stanno sopra io sto sotto al mezzo al casino stavo non sto nero ma sto nero non sto nero ma non sto nero ma sto nero basta che mi devo cadere il gioco basta che mi devo cadere il gioco adesso mi può cadere quindi io non dovrei cadere da lì attenzione John McLean non c'è nessuno non posso credere ai miei occhi se avessi tutti i lacrimati in questo momento piangerebbe che magnifica bandoglia licuorosa è andato il peso faccio bollente sennò ma non cazzo non cazzo ma non cazzo non cazzo la massa culper vabbè il fatman si non cazzo non cazzo ma cazzo non cazzo non cazzo ma non cazzo non cazzo ma fa il fuolo grazie eh Grazie a tutti.